Una nuova legge urbanistica in Campania per la sostenibilità e la rigenerazione urbana è stata approvata dal Consiglio regionale. Nuove norme procedurali approvate al centro direzionale che andranno ora a disciplinare la salvaguardia, la valorizzazione, l'assetto e l'utilizzazione del territorio mediante un sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica. La legge, così come modificata, introduce nuovi obiettivi, tutt'altro che secondari. Tra questi la rigenerazione territoriale urbana, la sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica, economica e sociale. La legge urbanistica si occupa anche della dispersione degli insediamenti urbani attraverso processi di riuso e recupero delle aree degradate ed densificazione urbana, dalla riduzione dei fattori di rischio ideologico, sismico, vulcanologico ed altri rischi naturali. Piano territoriale regionale, piano territoriale di coordinamento provinciale, piani urbanistici comunali, tutto fa parte del parchetto urbanistico regionale rinnovato nella giornata di ieri. Un provvedimento molto atteso e che va incontro alle necessità oggi non più procrastinabili in termini di tutela e valorizzazione ambientale, si legge nella nota diffusa dalla Regione Campania.